Finalmente ci siamo, oggi pre-GP di Baku, andiamo a vedere dopo un mese di pausa cosa ci aspettiamo dai team e vi dico le caratteristiche più importanti di questo circuito. Hanno apportato anche dei cambiamenti quest'anno, che andiamo a vedere nel corso del video, ma prima abbiamo visto la conferma di Mackie's che abbandona Ferrari e a fine 2023 andrà come team principal in Alfa Tauri, al posto di Friends Toast. Come vi avevo detto anche martedì, questa notizia sembrava affidabile, perché abbiamo detto è già da un mese che si vocifera dell'addio di Mackie's, durante la pausa invernale Mackie's ha cercato altri team, dove andare come direttore sportivo anche con altri ruoli, ma soprattutto Friends Toast ha una certa età. Red Bull vuole ricostruire il suo team satellite, ovvero Alfa Tauri, e quindi diciamo che lo scacchiere si è allineato e quando la logica viene incontro alla Formula 1, poche volte ci si sbaglia. E quindi vedremo dall'anno prossimo Loren Mackie's come team principal di Alfa Tauri. E questa è una mossa intelligentissima da parte di Red Bull, perché Rubi è una persona importante all'interno di Ferrari per metterla nel tuo team minore. Abbiamo visto l'addio di Binotto, Rosato, Giacobazzi, Rueda spostato nel Remote Garage, Sanchez che lascia la Ferrari, e ora è arrivato il momento anche di Loren Mackie's. E secondo me ci sta nell'ottica di un cambiamento profondo all'interno di Ferrari. Ovviamente bisognerà vedere chi sarà il sostituto di Mackie's, e su questo non ci sono ancora delle voci a riguardo, ma sapremo di più sicuramente nei prossimi mesi, e anche se dall'esterno può sembrare un divorzio improvviso, beh, non lo è quello tra Mackie's e Ferrari. Benedetto Vigna e John Elkan non gli hanno offerto ciò che lui ha richiesto, anche dopo le dimissioni di Binotto. Lui voleva avere un ruolo ancora più importante al punto di vista politico e decisionale, all'interno del team di Maranello, e dopo il no che ha ricevuto Ferrari su Christian Horner e Andreas Seidel sul possibile sostituto di Binotto, beh, Mackie's pensava di essere lui il predestinato in quel ruolo da team principal. Però Vigna e Elkan avevano un'altra idea in merito, e per questo hanno scelto Vasseur. Mackie's ha avuto un ottimo rapporto sia con Binotto e anche con Vasseur, però voleva lui avere il posto di Vasseur in questo caso. Non l'ha ricevuto, e quindi da lì in poi si è parlato di un possibile addio, e di vedere quindi Mackie's in un altro team. Sia Vigna che Elkan hanno cercato di tenere Mackie's come rappresentante nella comunicazione diplomatica tra FIA e Ferrari, quindi nel gestire la sfera politica del team, ma Mackie's vuole avere più un ruolo dirigenziale, che lui è stato dato. Vasseur ha fatto di tutto anche per cercare di trattenere l'ingegnere francese, ma non ci è riuscito. Secondo me questo divorzio è giusto, e vedremo anche un riscatto di Ferrari nei prossimi anni, con questo cambiamento profondo che sta vivendo. È necessario cambiare il personale per cambiare poi anche la macchina, e quindi era inutile trattenere Mackie's in questo momento. Ovvio che avere l'annuncio ora, quando hai tutta la stagione ancora da fare, non è il massimo, perché Mackie's perde comunque di motivazione. Però sono curioso di vedere chi lo sostituirà. Prima di continuare con il video e andare a vedere il pre-GP di Baco, quindi tutte le caratteristiche del circuito, record, statistiche e come si preparano i team, vi ricordo di lasciare un like per supportare la serie Formula 1 a 360 gradi. Iscrivetevi e attivate le notifiche, perché ogni giorno esce un nuovo video dove commentiamo tutte le notizie della Formula 1, di Ferrari e di tutti gli altri team. A voi non costa nulla, ma per noi fa una grandissima differenza. Vi ringrazio di cuore di tutti i commenti che leggo ogni giorno, in ogni video. Cerco di leggere e rispondere a tutti quanti. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate dell'abbandono di Mackie's e scrivetemi anche quale team vedete favorito tra i top team, tra i team nel midfield e quale team invece sarà penalizzato qui a Baku. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere gli aggiornamenti e le novità che vedremo nella pista di Baku. Per la prima volta nella storia della Formula 1 vedremo due qualifiche nello stesso weekend. Ci sarà il parco chiuso subito dopo l'FP1, quindi si avranno a disposizione solamente 60 minuti per fare il setup. E il team che si aggiornerà di più qui a Baku sarà McLaren, che ha portato diversi aggiornamenti sulla MCL 60, soprattutto sul fondo della monoposto, che rappresentano un po' una rivoluzione del team di walking. Ma cos'è che conta effettivamente a Baku? Il punto più importante non è solo l'efficienza sul rettilineo, che tra l'altro ha una zona di RS più corta di 100 metri quest'anno, ma è fondamentale avere un ottimo grip meccanico al posteriore, che è ciò che ha convinto soprattutto in questo inizio di stagione Red Bull e Aston Martin. L'usura delle gomme sarà un altro fattore chiave, ci ricordiamo come per esempio nel 2021 con altre gomme, la macchina di Verstappen ha subito la foratura e quindi la conseguente esplosione di uno pneumatico sul rettilineo. Pensate che la maggior parte del circuito si percorre sotto i 250 km orari, quindi per quanto si dica che è un circuito veloce, di fatto nella velocità media non lo è. Nel secondo settore ci sono 19 curve affrontate sotto i 150 km orari e 7 vengono affrontate sotto i 100 km orari. Nel 2022 abbiamo visto una F175 che spiccava per l'ottima trazione e il sabato un ottimo giro di Leclerc che aveva fatto la differenza nonostante l'ala più scarica. Quest'anno Ferrari ha presentato un'ala da medio-basso carico, come la maggior parte dei team fatta eccezione di Mercedes, che ha un'ala da medio carico, scelta molto strana, e AS che ha un'ala a basso carico, con un flap del DRS molto piccolo, che la svantaggerà molto in ottica sprint race e gara in zona DRS. Ma andiamo a vedere alcune informazioni dati di Baku. La pista è lunga poco più di 6 km, ci sono 20 curve in totale, il record della pista l'ha segnato Leclerc nel 2019, in 1.43.009, il primo GP in questa pista si è disputato nel 2016. E in questo momento potete vedere tutti gli orari del weekend. Le gomme che si porteranno qui a Baku sono la C3, C4 e C5, quindi le gomme più morbide. Si useranno delle pressioni più alte, per evitare eventuali forature. Nel 2022 la strategia vincente è stata quella a due soste, con media hard-hard, favorita anche dalla virtual safety car per il secondo pit stop. Quest'anno è probabile che vedremo anche una strategia a una sosta, ma con eventuali safety car virtual o bandiere rosse, la strategia può cambiare. La vera incognita in questa pista è se Ferrari riuscirà a mantenere le doti che ha mostrato in Australia, di buona trazione soprattutto in gara, nelle curve più lente, usando un setup molto più scarico. Alla posteriore a medio-basso carico, sospensioni più morbide, Mercedes ha portato diversi aggiornamenti alla sospensione posteriore e alla zona di raffreddamento, Alpine ha portato invece aggiornamenti più aerodinamici, come anche McLaren, sul fondo, tra l'altro Ferrari è tornata con l'ala doppio pilone, e non più quella monopilone, probabilmente per garantire un'ala posteriore più stabile, però genererà comunque un po' più di resistenza aerodinamica. La Red Bull ha comunque mantenuto un'ala posteriore a medio-carico, con un flap di RS molto grande, e secondo me anche in questa pista Red Bull dominerà, l'unica incognita è un po' il cambio, essendoci tante cambiate in una pista come Baku, potrebbero avere problemi da quel punto di vista, lato trasmissione e cambio, ma se non avranno problemi di questa natura, beh, nessuno può fermarli. Come seconda forza Aston Martin, Ferrari e Mercedes sono molto vicine, e si contenderanno quindi il podio. Spero di sbagliarmi, e spero che Ferrari mi smentisca, ma penso che la rossa potrà essere terza forza, quindi magari davanti a Mercedes, ma dietro a Aston Martin. Io ovviamente spero sempre che Ferrari riesca a fare il meglio possibile, ma avendo una visione oggettiva, e vedendo le caratteristiche di questo tracciato, con una pista mista, dove è importante avere grip meccanico al posteriore, poca usura, tanti bump sulla pista. Insomma, sono caratteristiche che non vanno a genio alla SF23. Nel midfield mi aspetto molto forte al pin, McLaren secondo me pagherà comunque qualcosa, perché avrà tanto drag, sia con l'ala posteriore più carica, e anche con le modifiche al fondo, è vero che aumentano il carico aerodinamico, però sicuramente il team di Walking farà un passo in avanti, rispetto alle scorse gare. Mi sono piaciute molto anche le dichiarazioni Vasseur su Mekis, che dice che è un'ottima opportunità, quella di andare come team principale, in un team di Formula 1, e in questo caso per Loren in Alfa Tauri. Non è un dramma per Ferrari, si troveranno dei nomi nuovi, per i diversi ruoli, ma stanno pensando anche a una riorganizzazione interna, per colmare il ruolo di direttore sportivo di Mekis, che comunque sarà operativo fino a fine stagione. Vasseur è stato molto lucido nelle sue dichiarazioni fatte oggi, cercando di mantenere sempre bassa la pressione su Ferrari. Fatemi sapere nei commenti, chi avete voi favorito qui a Baku, e cosa ne pensate di questo cambiamento di Ferrari su Loren Mekis. Tra l'altro ragazzi, seguitemi su Instagram domani, perché ci saranno delle notizie e novità importantissime. Vi dico solo questo, trovate il link qui sotto in descrizione. Qui da Lastra è tutto, ci vediamo a un prossimo video.